Due giorni per salvare la Fidelissandria. Servono ancora 100.000 euro per la ricapitalizzazione della società e dare seguito all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. È una corsa contro il tempo, e questo lo si sapeva, quella che sta impegnando la dirigenza della società Biancazzurra. Sono giorni frenetici per il presidente Paolo Montemurro, che dopo aver ammesso di non essere riuscito a pagare gli ultimi stipendi della passata stagione, ha lanciato l'appello all'imprenditoria andriese perché si faccia avanti per salvare la società. Servono i soldi per la ricapitalizzazione, bisogna chiudere l'operazione entro il 6 luglio e all'appello mancherebbero 100.000 euro, cifra che della Fidelissandria hanno voluto rendere pubblica proprio per sensibilizzare gli imprenditori cittadini e non lasciare cadere nel vuoto l'appello del presidente. Con la ricapitalizzazione si potrà provvedere a regolarizzare l'iscrizione, a pagare gli stipendi arretrati ai calciatori, anche se le penalizzazioni nel prossimo campionato arriveranno comunque, e non far sparire la Fidelissandria dal calcio professionistico. In caso contrario si aprirebbero scenari difficili da immaginare, probabilmente nemmeno presi in considerazione, sino a poche settimane fa. Certo, resta da capire cosa accadrà dopo la ricapitalizzazione. Il presidente Montemurro, nella lettera aperta pubblicata sabato scorso, aveva manifestato la volontà di farsi da parte, ma non è detto che non mantenga una quota maggioritaria della Fideliss. Con la situazione in evoluzione restano congelati tutti i ragionamenti legati all'aspetto tecnico. Prima di tutto servono 100.000 euro per salvare la Fidelissandria.